Del Carpi, aggancia Caselli, va a dargli a proteggere palla, disturba Chiricò, farà tornare per la Vigorlamese, Chiricò che salta un avversario, Chiricò ne salta un altro, un altro ancora, Chiricò palla sul destro, non è il suo piede, mette in dentro, Vincenzo Cosa, il portiere stavolta fa un miracolo, fa un miracolo, incredibile il portiere Rolli, protagonista di questa partita, protagonista nell'ultimo minuti, Vigorlamese che arriva al pareggio per avere qualche punteggio in più in classifica a rivescaggio, il portiere dice di no, ancora attacca la Vigor, mangia pane, secondo punto di recupero, ne mancano altri due, la palla schizza sulla sinistra per Bognanni, Vigorlamese che attacca col cuore in gola, ancora Bognanni, la palla mi resta troppo tra i piedi, Cordiano, Tidei, palla sul destro, dentro l'area di rigore, il rimpallo, arriva Cosa, scivola, al momento dell'impatto, scivola Cosa, davanti all'avversario, si dispera Vincenzo Cosa.